guarda adesso quando vado a casa lo smonti come fa? so che diria questo? eh si è una riviera esatta fuori la che son caduto son caduto da... ma com'ha fatto a farsi su la porta? e faccio a te butti la moto in terra e lasci inviata anche nel torrette giù per terra che la moto che va la ruota che girava ma cazzo ma va anche giù ma la moto va anche se giù per terra in teoria dovrebbe spegnarsi perché c'è sul sensore ma quando la metti lì giusta che gli arriva la benzina va lo stesso no è che non mi entrava la macchina perché cazzo non va più no no non entra è entrata una volta sola si è bloccata lì tanto non torna indietro pietro lascia la stare si tiro via sabato notte quando prima che domenica devo uscire lo faccio perché pensi che lo faccio adesso ma lo sai che se te la tiri indietro noi la prendiamo indietro ma si ma lascia la stare no e vada come forza devi tirar via la guida lì quello lì c'è apposta va bene così dai ciao ci vediamo sabato ciao 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 ciao